Il Cesena cerca conferme, ma è il Venezia a trovarne in questa seconda giornata caratterizzata anche dalle vittorie del Verone e del Cosenza. Proprio sul terreno i lagunari comunque una delle partite più interessanti. Il Venezia, allenato da Zaccheroni, propone la zona, il gioco spumeggiante, veloce, in contrapposizione a quello del Cesena, schierata uomo. I padroni di casa impressionano per spigliatezza e vivacità, il segno anche di una buona preparazione. E il 3-1 è la logica conseguenza. Bortoluzzi in apertura dà il là al Venezia, che comunque deve subire, poco dopo all'undicesimo, il temporaneo Pariggio firmato dall'Erda. E' sempre l'attaccante del Venezia, comunque al trentesimo, a imprimere il nuovo slancio ed è suo il colpo di testa del 2-1. Per Bortoluzzi una doppietta. Nella ripresa il Cesena cerca ripetutamente di riequilibrare, insistendo maggiormente in attacco, in coincidenza anche con l'espulsione di Fogli. Proprio quando il Venezia deve subire l'iniziativa degli ospiti, riesce a mettere al sicuro il risultato in contropiede con Rossi. Così il Venezia si vuole imporre in questo avvio di campionato. 22.